Due carabinieri che abitano uno di fronte all'altro in due palazzi confinanti si incontrano in caserma. Allora un carabiniere si rivolge all'alto e gli dice Collega, collega, ehi, collega, vieni qua, ti devo dire una cosa, vieni qua, che c'è? Collega, sei un cretino. Perché? Eh, perché la sera le tende le devi chiudere. Eh, perché? Cretino, io ieri sera ho visto a te che facevi l'amore con tua moglie. Le tende le devi chiudere, cretino. Allora risponde il carabinieri, cretino dice a me, cretino sei tu. Perché? Eh, perché ieri neanche a casa ero, ero in missione. Chi è il cretino? Ui, 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 ui.